Meglio che tu cagli e io ti tengo Ok 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 per entrare qui si è proiettivo no 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 ok si 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 ok si 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 almeno la sera poi adesso facciamo un'altra cosa la serve letto per fare bene si pure questo è una piccola come hai imparato a fare è appreso in un altro modo questo è una cosa sintetica e niente controllo questo è un veicino questo si io devo fare sintetico fare ancora io vedi io vedi come rimanga sempre mi baso mi spido a tu spavano oh 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 vedi attiene sotto controllo questa gamba vedi si mi roba entrare vedi fondo oh vedi 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 Take va 兩個 vai Vedi 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 tante vedi mesura mi vedi a 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